Siamo al terzo, è l'ordine del giorno presentato dalla terza commissione consigliare del comune di Figline e dalla quarta commissione consigliare del comune di Incisa Valdarno, sviluppo educativo e formativo dei giovani attraverso lo sport. La parola al consigliere Sarri. Buongiorno Sarri, noi si è pensato di presentare quest'ordine del giorno per stimolare la futura amministrazione ad incentivare lo sport sul territorio. Visto l'importanza da sempre dimostrata nell'educazione giovanile dello sport e che lo sport è fonte di divertimento in quanto da corpo al diritto alla felicità intesa come benessere psicofisico e piacere di stare insieme agli altri, che la pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo, che lo sport contribuisce alla conservazione e dal miglioramento della salute di chi lo pratica anche attraverso l'adozione di stili di vita salutari. Considerando che le attività praticate sono le più varie, tanto che da alcuni anni si è registrata un'importante inversione di tendenza. Sono più gli italiani iscritti a enti di promozione sportiva di quelli iscritti a tradizionali federazioni e discipline sportive associate, che anche i nostri cittadini preferiscano praticare attività sportive non classiche e di questo abbiamo diretta dimostrazione osservando le dinamiche e le abitudini della popolazione del nostro territorio, dove sono presenti associazioni di ogni tipo, dimensione e organizzazione gestionale, che l'associazionismo, soprattutto quello sportivo, è notoriamente afflitto da alcuni problemi, carenza di mezzi finanziari, mancanza di spazi per lo svolgimento delle attività statutarie, auspica che la dimensione amministrativa del Comune Unico possa ambire al coordinamento e alla omogenizzazione gestionali della realtà associative del territorio, sensibilizzandole e motivandole per poterle capire meglio e aiutare di più. Nello specifico si chiede di valorizzare le specifiche competenze ed esperienze presenti sul nostro territorio, al fine di concorrere a migliorare la qualità della pratica sportiva, di studiare, proporre e sostenere soluzioni che permettano di adeguare gli attuali impianti sportivi e di realizzarne di nuovi. Il Consiglio chiede ai sindaci e alla Giunta di continuare nel proseguimento di tali politiche e di renderle sempre più cogenti nella dimensione del Costituendo Comune Unico. Assessore Cardi Sì, grazie Presidente. Io vorrei ringraziare i presidenti delle due commissioni, Sarri e la Cristina Boddi per questo ordine del giorno. Io premetto subito che mi sono sentita ieri anche con Massimo Bigoni che è il vice sindaco di incisa assessora allo sport che stamattina non può essere qui. Abbiamo condiviso entrambi gli ordini del giorno che riguardano lo sport e devo dire che racchiudono in maniera molto positiva e pertinente lo spirito con il quale noi già adesso come due amministrazioni ci stiamo approcciando verso il Comune Unico perché già del lavoro lo stiamo svolgendo, le commissioni si sono anche riunite insieme e quindi dei segnali già concreti di quanto anche il Comune Unico potrà maggiormente incidere ci sono sullo sport che è una pratica così importante e così diffusa e che nei nostri territori svolge un lavoro fondamentale anche di ammortizzatore sociale perché sono tantissime le associazioni che noi abbiamo sul territorio. Tra figline incisa io credo abbiamo all'incirca più di 30 associazioni società sportive e sono davvero migliaia le persone soprattutto i bambini e i ragazzi che praticano sport e sappiamo quanto questo sia importante e quindi fornire anche spazi adeguati a che questa attività possa svolgersi nel migliore dei modi e nella più totale sicurezza è sicuramente un input e un impegno importante per noi. Dicevo che del lavoro lo stiamo già svolgendo perché abbiamo già riunito sotto forma diciamo di consulta dello sport, quella che sarà ovvero la consulta dello sport, le associazioni sportive di figline e di incisa e devo dire che da queste stiamo ricevendo degli input molto importanti e positivi. Ci sono delle associazioni, le abbiamo citate molte volte, che hanno diciamo precorso i tempi e si sono già messe insieme nella dimensione di figline incisa quindi del nuovo comune unico come ad esempio la pallavolo, il Valdarno Volley, ad esempio il settore giovanile delle società calcistiche che ha formato un'unica società che è il Valdarno Football Club e questo diciamo ha fornito uno stimolo anche alle altre società sportive. Ripeto, nel modello di consulta che noi stiamo cercando di portare avanti vediamo innanzitutto la voglia di queste persone di partecipare, di conoscersi, di scambiarsi esperienza, di condividere valori e all'interno di questo contenitore noi speriamo di poter continuare a ricevere sollecitazioni sul modo di operare e di portare avanti la gestione degli impianti per esempio ma anche ripeto iniziative e stiamo vedendo veramente un lavoro positivo che io penso si concretizzerà con come tutti speriamo con il comune unico. Purtroppo come sapete gli interventi che noi possiamo fare ad oggi sugli impianti sportivi che sono un po' quello che anche le associazioni ci chiedono sono limitate da vincoli che tutte le amministrazioni hanno e soprattutto dal patto di stabilità. Con il comune unico, i nostri sindaci l'hanno detto più volte, l'abbiamo detto e ribadito anche in questo libretto che abbiamo fatto, sarà la possibilità di sbloccare il patto di stabilità, questo consentirà uno sblocco di tutti gli investimenti e quindi anche di investimenti a favore e sulle strutture sportive esistenti e noi speriamo anche per creare nuove strutture sportive più adeguate ad un tessuto sportivo così ricco come quello di Figline e di Incisa. Ci sono interventi? No. Allora quindi dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione, vi sarà l'unanimità, chiedo se c'è l'unanimità alla votazione a questo punto, allora procediamo con la votazione in congiunta dei due consigli, quindi mettiamo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno di oggi, quindi lo sviluppo educativo e formativo dei giovani attraverso lo sport. Voti a favorevoli? Quindi c'è l'unanimità ad entrambi i consigli comunali.